Ho giocato un buon match e soprattutto perché comunque è la prima partita del torneo che è sempre abbastanza difficile. Ci ho riuscito a spingere molto col mio dritto oggi, ho fatto parecchie vincenti, ma è stato bello anche a vedere il match. Non ho servito granché bene, ma è molto importante comunque, ho sempre messo una buona percentuale di prime. Sono contento perché comunque ho l'opportunità di giocare l'altra partita, di giocare il secondo turno qui e sono abbastanza fiducio, sono rilassato e sento che sto esprimendo un buon gioco, quindi vediamo.